Ragazzi sono arrivati in albergo, wow che meraviglia, stanca morta ma sono arrivata. Allora tutto ok, le strade sono buone, io ci ho messo veramente poco ad arrivare. Adesso sistemo la valigia, un po' di cose mie e mi raccomando stasera seguite Upas, insomma da adesso in poi Marina incomincerà ad accendersi lentamente, d'altronde oh, terminando se è cercata, non ho capito io, sta facendo un papocchio, sta facendo e pure Greta, i due piccioncini dovranno essere bastonati prima o poi, non vi pare? Ok, allora più tardi, baci, ciao 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 ciao